appena è iniziato il secondo tempo dopo appena pochi secondi due episodi sospetti molto sospetti prima viene atterrato Alessandro poi Cogliati Alessandro Albedo non fischia niente su Cogliati fischia questa punizione a 10 cm 3 dall'area del Porto San del Piglio il pallone il biondissimo l'ossigenatissimo il platinato Pulcino Pio Alessandro Mano! Mano e rigore! Mano e rigore! E lei dipigna il cartellino! Portiere e arbitro hanno la stessa divisa e comunque dopo tre episodi sospetti l'arbitro ci ha dato questo rigore Pulcino Pio! Mano e rigore! Stiamo al primo minuto del secondo tempo Mettila dentro! Mettila dentro! Già fai un prezzo! Zero un malattraverso! Mi resta in capo! Me! E' spuso! E' così! E' andato! E' andato! Grazie a tutti.